Un'ora di neve abbondante ma attesa paralizza solo per un'ora la città di Ragusa. I cittadini che da giorni attendevano la loro dose di neve evidentemente sono stati sorpressi dall'arrivo improvviso e vemente dei fiocchi bianchi delle prime ore della mattina. Circolazione stradale in tilt e soprattutto nel quartiere sud e code per circa un'ora hanno provocato disagi alla circolazione stradale anche per la scelta precauzionale di chiudere i due cavalcavia di via Zama della zona Asi che gestivano il traffico veicolare in entrata e in uscita dal comune capoluogo. Molti cittadini hanno raggiunto in ritardo i propri uffici e la polizia municipale insieme agli uomini della protezione civile e comunale sono stati costretti a un super lavoro per ridurre al minimo i disagi dei cittadini. Molti incidenti autonomi, per fortuna senza gravi conseguenze, tranne quello che ha coinvolto una donna intorno ai 40 anni che con la propria auto, forse a causa del fondo ghiacciato, ha centrato in pieno un albero in via Archimede. Problemi anche nella zona ovest all'ingresso di Viale dell'America e sulla strada statale 115 con disagi e code chilometriche fino a Contradacoffa. Un aiuto insperato, viste le condizioni iniziali, è venuto dal tempo con il sole spuntato intorno alle 10 che ha sciolto la neve e consentito il ritorno alla normalità. Il sindaco Nelo Di Pasquale ha seguito costantemente l'evolversi della situazione che ha visto l'attività di tre mezzi spargisale oltre a numerosi mezzi meccanici. In caso di peggioramento delle condizioni meteo, il primo cittadino non aveva nemmeno escluso la necessità di emettere ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani, dopo che oggi le lezioni erano state garantite senza intoppi. Probabilmente in questo caso non ce ne sarà bisogno.